Si è disputata domenica a Castiglione d'Ossola la 38esima edizione della staffetta Colombetti Forever, valida come prova unica di campionato regionale di staffetta della corsa in montagna e momento celebrativo dei primi 40 anni d'attività dell'ASD Castiglione d'Ossola. In campo maschile è successo, come è ampiamente da pronostico, per la podistica Valle Varaita, che può nuovamente contare sui propri campioni Martin e Bernard e Matteis, congedati dal gruppo sportivo dell'esercito una volta scaduto il bando. Con loro Manuel Solavagione ha dare vita ad un terzetto che è partito in testa ed è arrivato al traguardo con circa 4 minuti sugli inseguitori. Sul podio alle spalle dei cunesi è doppietta per il Genzianella che piazza a secondo posto la squadra composta da Mattia Scrimaglia, Rolando Piana e Marco Reinelli e al terzo posto il team di Enio Frassetti, Mauro Uccelli e Carlo Torello Viera. Quest'ultima squadra si aggiudica anche il titolo regionale Master A, mentre il titolo piemontese Master B valla a podistica Valle Varaita con Silvio Barra, Marco Alemano e Giovanni Koalova. In campo femminile assoluto successo ancora per la podistica Valle Varaita che fa così doppietta. Sul gradino più alto del podio sale la squadra composta da Maria Laura Fornelli e Elena Maria Bagnus, anche in questo caso con un netto margine sulle inseguatrici. Seconda piazza per la cadese di Michela Piana e Arianna Matrimen, il terzo posto è per l'AS di Dragonero di Eufemia Magno e Monica Panuello. Titolo regionale Master A per il Bognanco di Patrizia Turtora e Enrica De Giuli, mentre si laurano campionesse regionali Master B il GSA Valsese di Maria Giovanna Cerutti e Claretta Miglio. Nella categoria Juniors maschile il titolo va alla cadese di Ivan Fantoli e Marco Giudici, che precedono nell'ordine all'atletica Saluzio e alla podistica Valle Varaita. Non è stato assegnato invece il titolo Juniors femminile.